Qual è lo stato di Eagle? Qual è lo stato di più? Ho un aggiornamento sul contenitore che stai tracciando. Molto probabilmente quel nemico non identificato che hai visto nel sottomarino era la stessa cosa in contatto da Nomad e dell'Avita. Quelle creature pilotano diversi tipi di esoscheletri armati. Sottomarino 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 Ho una mappa della miniera. Segui le mie indicazioni e troverai la strada. Prima ti farò uscire dalla miniera, poi dovrai avanzare nel Terminale Mercatini. Noi, noi, noi. C'est bon, c'est bon! 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 C'est bon!